Server presenta una serie di nuovi colori per le ProMod oltre agli strumenti già visti l'anno scorso come Gatrigo, Vansignetur, Jakey Lee e Maggio Duplantier, Signature del chitarrista di Gosira La novità è rappresentata dai due modelli Signature di Warren De Martini finalmente nella serie ProMod, ovvero repliche fedeli e identiche agli originali USA Custom come potete vedere, ma dal prezzo estremamente abbordabile pur nella completezza della dotazione perché parliamo in ogni caso di Ponte Floyd Rose e di Picassi Mordaca